Lui è già arrabbiato, così, lui è già arrabbiato Fare anche cagare, meno male 1500 danni, così, per gradire Quante ne hai? Zuzzurellone Ti ha fatto 1300 danni col pensiero, praticamente A un punto vita... no, 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 no Ciao Nini, sono qua intanto per dirvi che sto ritrando il video E questa è una parte che vi aggiungerò io, ma l'ho scoperto adesso Sarò presente al Torino Comics Sabato e domenica, sono assieme ai mates Sì in casa, che col minivan, che in tutto Quindi, di conseguenza, credo di essere dove saranno loro in stand Non so se saranno in Tom's Hardware, ma penso proprio di sì Quindi, sarò con Tom's Hardware al Torino Comics Mi troverete lì, sabato e domenica Non so a che ora arriveremo Tendenzialmente penso per le 10, 10 e mezzo, 11 Deve arrivare in fiera Non so se sarò dietro le transenne, oppure sarò semplicemente in mezzo al pubblico Come faccio sempre Vediamo un po' cosa mi concederà la gestione della fiera E per di voi volevo dirvi, se volete i capelli personalizzati Io ho trovato questa pagina di fa bellissima E appena ho detto ho fatto, devo per forza avere quei capelli Devono avere della visibilità Perché fanno questa cosa ed è fighissima E quindi voi direte, puoi farlo ovunque Non lo so, io non avevo mai trovato un sito che faceva capelli personalizzati Quindi andate in descrizione e fanno capelli Questo è Uolo, è quello che ho regalato a Natale per Step È quello che ho regalato per Step È il regalo che ho fatto a Step per Natale E niente, noi siamo di Uolo Brother e quindi Uolo Ma adesso vi lascio al video, buona visione Ciao a tutti nini, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qua 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 Vabbè, oggi siamo qua su Clash Royale Stavo registrando, anzi ho registrato il torneo Royale Che per ora, anche secondo voi, lì aumentano i soldi nel frattempo Che qui siamo a tre vittorie per ora Spero che quando registrerò la seconda parte Ci sarà anche un proseguo perché altrimenti se non vedete più questo torneo È perché ho perso, miserabilmente tra l'altro Ma oggi siamo qua per giocare appunto con il mazzo che stavamo usando nel torneo Royale In partita classificata, ovvero in partita normale Perché in torneo si giocano mazzi completamente diversi Quindi iniziamo con il primo mazzo del nostro fan Che rimane quello dell'altra volta del torneo In torneo ragazzi c'è un altro tipo di gioco Si trajarda di più Tutte le partite finiscono per 3 corone a 0 Ragazzi, non sa perché ho 3 corone a 1 Sarò io, sarete voi Saranno loro, voi, essi, nosotros, nosotros Si parte già male, io vorrei tirare la sfera infuata PASPORANDO LUI CI METTA VALCOSA SOTTO ERA POM No, va bene, quella è andata Pure il maghettino Vabbè, siccome lui vuol tryhardare così tanto Raga, a questo punto tiriamo gli sto barile goblin Ah, questa pesa, questa pesa, questa pesa No, no, non posso, non posso, non posso, non posso, non posso Non posso, tronco Ok, tra l'altro tronco lì ragazzi Prendo tanto danno E la madonna però che coglioni che fai te qui, eh E lui addirittura viene, lui addirittura si gira ragazzi Mamma mia, ma che è Cioè il tryhard più totale il mio avversario La madonna Copio il suo mazzo, mi piace troppo, mi piace Durante un po' il gigante royale ragazzi Con il cazzo che lo facciamo, va bene? Va bene Allora, di qua in realtà Che cos'è? No, te non puoi giocare Non giochi veramente la sua nazione, vero? Non la giochi Non la giochi, ti dico, ti dico non la giochi Non la giochi Girati su questi Girati su questi Cioè lui appena lo buttò giù una torre così Tanto perché gli andava Vabbè Tira il mago Tira il maghetto Non tira il maghetto? Prendi un botto di danni Prendi allora Ne prendi veramente una sacchettata enorme di danni Bata pam Vabbè, la lasciai lì L'ho detto, tanto questo non mi farà un cazzo di danno Vabbè, morto Dov'è il tuo aggrider? Davvero? Chi ne avrebbe mai detto? Facciamo gli scheletri qua così Facciamo Sì sì, ammazzatemi lui Ok Lui, attenzione Attenzione Picchiatelo Vabbè, giratevi su di lui allora a questo punto Vabbè, giratevi su di lui La torre ti ammazza Vabbè, vai, tranquillo frate No, l'ho tirata troppo No Vabbè, fate il danno Fate il danno Fate il danno Qui in teoria la torre andrebbe a subire quasi nessun colpo Se non uno Zero, ok Cosa tiriamo adesso? Di nuovo il gigante Scheletro Nuovamente Vabbè, facciamo così Bene E te sei andata, ok In teoria qua adesso voglio tirare il mio tronco Contro il suo aggrider possibile Tiriamo adesso Dove è l'aggrider? Eh, eh, eh Davvero? Chi l'avrebbe mai detto? Ciao aggrider Ok, te qua Ok, ci sono tantissimi scheletri Bellissimi Purissimi Levissimi Shotta Ma di cosa? Ma di co? Ma siamo seri? Ok, lui però sta già andato a sinistra raga Ok, colpisci, colpisci No, non ci credo 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 Vabbè, sfera è infuocata Questo Che facciamo? Eh, muore sto maghetto di merda Muore? Non muore No, non deve essere difficile Ok Rapidità eccelsa In tutto quello che facciamo Tiriamo al barile goblin qua Ok, lui deve morire Veloce, veloce Barile goblin Picchia Ok Facciamo questo Facciamo questo Facciamo questo Facciamo questo Con tutto le scheletrini di merda Non li ha tirati Cioè non li ha tirati Siamo seri Non ha tirato le scheletrini adesso Va bene Non sei credibile da nessunissimo al mondo Vabbè, facciamo No, 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 no Facciamo questi qua Questi qua Così, così, così Picchiali, picchiali, picchiali Ok, non lo spingete per nessuna ragione al mondo raga Non lo spingete per nessuna ragione al mondo Va bene Si avvicinava tantissimo Ma che è Eh, la madonna Sto tiltando Scusate, mi ero abbastanza Stavo tiltando ragazzi malissimo No, 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 no Ok, vuoi qua così No Oh, ma che è Non ammazzano niente e nessuno sti cosi Quanto hanno fatto che coso Vabbè, facciamo Dai Dai, immortale raga, immortale Vieni Pure la fireball Madonna, non mi hai ucciso Non mi hai ucciso No, il tronco 33 vite E vabbè, dai Tutto Aspetta, aspetta, aspetta Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ho vinto Madonna raga, sto mazzo Prende dei cazzi alluscinanti Però, ho fatto questa vita Ma sapete, ero talmente preso dal fatto che stavo perdendo Che non ho guardato perché ho vinto in realtà Quindi mi riguarderò per 4 Allora, lì vedi i miei, i miei, i miei cosi Non sa, picchiare, guarda lì come dei fabbri Guardali E qui te non hai sparato Beh, dovevi metterla più a destra Ah, ecco perché, perché Perché vuoi stradare Te lo meriti Te lo meriti Proviamo questo mazzo raga Proviamolo, dai Vediamo se posso donare Sì, tieni, beccati questi soldi Giochiamo ragazzi con questo mazzo un po' rivisitato Dobbiamo climb by, ragazzi Ho preso il mazzo di un Lui è già arrabbiato Così, lui è già arrabbiato Piange, ne piange, ok Io direi ragazzi di fare Minatore E poi sicuramente si proteggerà dal minatore Direi di fare anche questo E poi vedi per sicurezza No, quello no Tutto tranne quello Tutto tranne quello dovevi giocare Madonna non puoi giocare in mazzo con le volanti Con i volanti Non puoi È moralmente sbagliato Lui tirerà qualcosa qua in mezzo Eccolo lì Ti pareva strano No No, no, no No Free damage No Pure Dai Sì tutto Dai Va bene Con azione Lava Hai buttato giù una torre gratis Complimenti Senza nessuna Cioè Semplicemente tu hai buttato carte E loro sono andate avanti Inesorabili Va bene Io ho fatto una combo di tre carte Tu me l'hai counterata con due carte Adesso io questa la trovo incounterabile Va bene Adesso lì picchia Picchia C'era il minatore del mio opponent Prima ragazzi era indistruttibile Una roba veramente importante Una volta metteremo la principessa qua così Tira sto cazzo di la wound De merda Vai Tira l'ora Viacce Viacce anche te Tutti qui Vieni Non c'è problemi Boom Manca a te Pensi di fermarmi Tiriamo questo Va così Ok Picchiami la minchia Vieni Tiamo la fireball Bam Tra l'altro un secondo dopo era anche meglio Però questi cagheronzoni ragazzi sono veramente dei cagacazzi allucinanti Insomma Siamo capiti Non so per cosa sto dicendo Non lo so Guarda lì Cioè Cioè Tu shottato Ok La cosa che mi fa rabbia è che lui ha vinto Io Non può Cioè Poi ho difeso strabene poi Era quel frangente lì con il la wound Cioè E la gente che mi dice fa cagare la wound Farà anche cagare Meno male Meno male fa cagare Perché se non facevo cagare era la fine praticamente Questo è un altro mazzo ragazzi di un Suppongo un fan nel Candy Step E mi ha salutato come se fossi Jesus E vabbè Quindi proviamo anche questo mazzo E proviamo a riscalare Un momento proprio di frustrazione in questo momento Cioè proprio della serie mi gira i coglioni Perché sto perdendo da dei coglioni Con il la wound Che fanno lì Cliccano e lui va dritto Orda di sgherri Orda di sgherri Frecce veloci Ok Va bene Chi c'è lì sotto Chi è questo Non lo vedo Il mini pecca Eccolo chi era Tiriamo uno seconda di ghiaccio Tiriamo uno seconda di ghiaccio Slovalo Slovalo tantissimo Vabbè Slovato 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 Vabbè massacralo Massacralo Madonna che danno fai Te bambino però eh Comunque comuni Al 10 Già si inizia con Con la rabbia intrisa di odio E frustrazione Ho la fireball in prediction Che insomma Non fa mai male 1500 danni Così Per gradire Tra il minatore qua dietro Lui adesso fa qualcosa di sicuro Uè non faccia qualcosa E mi Eccolo lì Però Stavolta Frecce qui così Rapide Boom Frecce tirata E tu ovviamente Che fai Non hai un'altra carta Che countera Quante ne hai Zuzzurellone Zuzzurellone Ma quante ne hai di carte Vabbè Prepariamoci Qui tanto adesso Tirerà il suo No quella logredder non lo tira Vabbè Buon 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 Oh anche il mago Giustamente Di giustezza Il mago ci voleva Lui adesso tira l'ora dagli sgherri Ci scommetto tutto No il mini pecca Il mini pecca Il mini pecca Il mini pecca Che anche se questo mini pecca È slovato È comunque il the god Tiriamo lui così Velocemente Bodo boom Ok Ah non so più cosa fare Tiriamo una bella fireball Che mi sono rotto il cazzo adesso Però di vedere da merda Boom Ok No logredder no Logredder no Logredder no Logredder no Logredder no In prediction Tirò tutto in prediction Sina merda Tira la principessa adesso Tira la principessa Ok No Frecce Frecce di rapidità Ok Ok questo qua Velocemente chiudetelo 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 E la madonnina Ogni singola volta è così Spara 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 Ok Dovrebbe buttarla giù Ok Basta mi è sorto il cazzo Facciamo così e così Ok in teoria il suo bombarolo non ci sarebbe più Beh che domande Oh però Allora la torre di contro Non ha preso Ha rischiato eh Ha andato più vicino alla morte di me Raga sto mazzo a me non piace Non so E allora il terzo Il terzo è The God Il terzo è questo raga Proviamolo Ok livello 9 Antonio ragazzi Mi ho trovato Antonio Io non so sinceramente come usare il mago di ghiaccio in maniera intelligente Perché tu sbucci non sei intelligente E quello ovviamente è giusto Ecco Ho premuto la levetta e mi ha tirato il coso di ghiaccio Bene Sfera infuocata in prediction Boom Ok Ok Girati verso di lui e sciottalo Boom Ammazza tutti Vai Dagli è così Venite qua Vai gigante No no Dovevi sorpassarlo gigante Ma vedi sei stronzo però Veloce gigante Quanto è lento sto gigante Saltate siete lì Sì vabbè dai Va bene Era lì eh ragazzi Notare che erano qui Bene Se tira il suo gigante reale un'altra volta Stavolta lo attenderemo con un mini pecca Che c'ha una mazza così stavolta Va bene Il resto tira quello lì Ovviamente il gigante reale Ovviamente una volta che il gigante reale sorpassa Io tiro il mini pecca Che dovrebbe sciottare in teoria il mago di ghiaccio Una volta che ha sciottato il mago di ghiaccio Noi tiriamo anche questo Una volta ha tirato questo Noi tiriamo anche questo Una volta tira il tronco Ovviamente Ha tirato il tronco Bellino Tiriamo gli spettrini di fuoco Va bene Va bene Una volta ha tirato anche questi Va bene Saltate addosso a lui Va bene Adesso ritirerà la cosa Dov'è Dov'è minchia Vabbè lui intanto dovrebbe fare un sacco di danno Però a prescindere proprio Va bene picchia Guarda lì Guarda come viene da secche Ha fatto 1300 danni col pensiero praticamente Dove adesso deve tirare il stregone di ghiaccio E la madonna Siamo pronti a tirare una mini truppettina della merda Adesso sicuramente No Se non la tira è un problema eh ragazzi Se non la tira è un suo problema Se non la tira è un suo problema Attenzione un colpo Si tira anche il seno Sede god Ma tonnera Era così era eh C'era Io ho perso Non si sa quanta vita ragazzi Da quella roba lì Va bene Facciamo questo e questo Lui ha 0 shami Ovviamente via Adesso ritirerà quella schifezza Esattamente Proprio quella schifezza lì Il suo gigante real ragazzi Fa un danno che Va bene Va bene Lasciamo perdere Shot a tutto Ma pure Dai Dai va bene Va bene così Fai scoppiare quella torre Ovvia Ok siamo di nuovo a pari Facciamo anche così a questo punto Va bene Facciamo anche così a questo punto Cioè il mago di ghiaccio ragazzi Fa meno danno Di non si sa cosa Lui tira il gigante royal Dicendo Mo lo spacco di botte Va bene Mo probabilmente mi spacca veramente di botte Va bene Il danno scera diciamo Il danno scera Facciamo questo qua così Ok Shottate quella merda Facciamo anche questo così Ok Facciamo a questo punto Anche questo così Ok Adesso provo a tirare la sua torre di merda Giustamente Quella schifezza lì Va bene Oh oh Aspetta Perché se lui va dritto Ragazzi è la fine Ok Ok Partiamo un secondo così Zap Zap un secondino Ok Oh Aspetta l'ultimo colpo Mi ha forse svoltato la partita A un punto vita No 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 Ne frega niente No 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 Fuori Ci rimania una vita No 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 Questo mazzo siamo partiti un po' male Perché c'è il suo gigante reale Ragazzi mi ha trapanato la partita Boom 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 Con quel cannone di merda Però alla fine abbiamo vinto In realtà abbiamo fatto vittoria Sconfitta Pareggio vittoria Quindi in realtà 2-1 E una non conta Quindi è andato bene Il test dei fan Io ogni giorno vi invito a lasciarmi I vostri mazzi più forti Forti Che deve arrivarci in arena Della madonna E quindi mettetemi In direct su instagram O scrivetemi sotto nei commenti Un bel pollice in su Vi piace L'iniziativa di fare dei mazzi Anche con voi fan Iscrivetevi al canale Passate anche dei miei social Che sono qua Stato in descrizione Ma diciamo comunque Al prossimo video Per questo video è tutto Ciao nini 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 Ciao nini